Lei è diventato fenomeno, come nasce questo fenomeno? Questa passione nasce perché io ho sempre amato mio padre sia da bambino, quando mio padre incominciava a strimpellare mia madre, e io così, e mi presi anche io mia madre, imparai così, imparai a strimpellare. Poi la prima madre a Natale, e incominciai a strimpellare e mi divertì. Il suo lavoro, diciamo, principale è stato quello che ho fatto e durato di più, e poi ho fatto tre anni a un sasso ausilario. E' un sasso ausilario, rale, non sasso, di un sasso ausilario, rale, non sasso, di un sasso ausilario.